Domenica 29 settembre, nel cuore di Roma, un flash mob straordinario ha catturato l'attenzione dei passanti in occasione della giornata mondiale del cuore. Liberiamo la circolazione dal colesterolo organizzato da Daici Sanchitalia. L'evento ha posto l'accento sull'importanza del controllo del colesterolo e della prevenzione cardiovascolare attraverso una performance simbolica. 11 sfere gialle hanno bloccato il flusso dei pedoni rappresentando visivamente l'ostruzione che il colesterolo LDL può causare alle arterie, un'iniziativa che ha saputo combinare sensibilizzazione e coinvolgimento pubblico per ricordarci quanto sia cruciale prendersi cura del proprio cuore con azioni concrete e consapevoli come il controllo dei livelli di colesterolo, una misura essenziale per prevenire patologie come infarti e ictus mantenendo il cuore e i vasi sanguigni in salute. Siamo nella giornata del cuore e questa giornata è dedicata a rendere tutti più sensibili sulla necessità di prevenire le malattie cardiovascolari che ancora oggi costituiscono una prima causa di morte e di morbidità in molti paesi, inclusa l'Italia. Dobbiamo essere tutti convinti che queste malattie prima ancora che curate possono essere prevenute e possono essere prevenute curando delle condizioni che predispongono allo sviluppo delle malattie cardiovascolari che nella stragrande maggioranza dei casi sono dovute a quel processo di danno delle pareti arteriose che si chiama aterosclerosi. E la principale o almeno una delle principali cause dell'aterosclerosi è rappresentata dal fatto che in molte persone nel sangue circola una quantità elevata di colesterolo. Anzi per essere più precisi circolano una quantità elevata di quelle proteine che trasportano il colesterolo che si chiamano LDL. E le LDL quando soprattutto sono presenti in elevata concentrazione hanno la capacità di penetrare nella parete arteriosa attraverso lo strato endoteliale e provocare una sorta di infiammazione. La parete si deforma si accumulano delle placche e queste placche nel tempo possono andare incontro a delle alterazioni che causano fenomeni trombotici che si possono generare anche nel giro di secondi. E questo è il meccanismo che noi sappiamo essere alla base di tutte le patologie ischemiche soprattutto quelle che interessano il distretto coronarico e che provocano quello che noi conosciamo essere come l'infarto. Tutti gli studi hanno chiaramente dimostrato che elevati livelli di colesterolo sono la principale causa dell'aterosclerosi e dell'infarto e quindi va curata. Va prima ricercata la ipercolestromia e poi va curata. Dico ricercata perché la stragrande maggioranza delle persone che hanno elevati livelli di colesterolo prima di arrivare all'infarto stanno benissimo, non mostrano sintomi, sono in eccellenti condizioni e quindi difficilmente pensano a sottoparsi a dei controlli clinici e di laboratorio per scoprire di avere elevati livelli di colesterolo. E quindi è importante che cresca la sensibilità nei confronti di controlli regolari che possono essere chiesti ai medici di famiglia o possono essere inseriti anche, come si dice, in controlli opportunistici che sono dedicati a studiare altre condizioni, ma nei controlli si possono inserire anche le misurazioni della colesterolemia. Questo perché? Perché noi abbiamo eccellenti strumenti per curare le ipercolestromie, che possono andare da interventi sullo stile di vita, in modo particolare sulle abitudini alimentari, ma anche interventi che prevedono l'impiego di farmaci, che sono ormai nell'uso da moltissimi anni, sono sicuri nella grande maggioranza dei casi e sono efficaci, in quanto sono in grado di determinare la riduzione dei livelli della colesterolemia che è adeguata al proprio rischio cardiovascolare. E il grande vantaggio è che la scelta del farmaco può essere disegnata e ritagliata sulle caratteristiche di ciascun individuo. Quindi per usare uno slogan possiamo dire che abbiamo i farmaci giusti per quasi tutti i pazienti e questo ovviamente è qualcosa che mette noi medici nella migliore condizione per poter scegliere la terapia giusta per coloro che hanno bisogno di avere una terapia per ridurre i livelli della colesterolemia. E per ultimo tutti questi farmaci sono dimostrati in grado di ridurre i livelli di colesterolemia e quindi anche il rischio cardiovascolare. Molti studi sono stati condotti in questi anni e che hanno chiaramente confermato che se un paziente che a livelli di colesterolemia riduce con l'impiego di questi farmaci la concentrazione dell'LDL nel sangue riduce in qualche caso in modo molto marcato la probabilità di andare incontro ad un evento ischemico come l'infarto. Si può arrivare a immaginare che con una cura adeguata di potenza adeguata io posso risparmiare un caso ogni due persone che è un risultato che è difficile riconoscere in molte altre branche della medicina. Il flash mob e la giornata di sensibilizzazione con screening cardiologici gratuiti sono stati organizzati da Daici Sanchi Italia che ha adottato un approccio fuori dagli schemi non convenzionale ma altamente efficace che ha saputo catturare l'attenzione e far riflettere sulla prevenzione. Nella giornata mondiale del cuore siamo lieti Daici Sanchio di essere qui per poter supportare questo evento abbiamo deciso di fare qualcosa di un po' innovativo, un po' divertente usando le palline di colesterolo per cercare di mostrare alle persone l'importanza e cosa succede nel corpo quando si ha il colesterolo alto. Le malattie cardiovascolari sono ancora una delle principali cause di morte in Europa e le malattie cardiovascolari, in particolare l'iperlipidemia, sono assassine silenziose. È quindi davvero importante che i pazienti ne siano consapevoli, che si facciano controllare e seguano il trattamento. Come medico capisco quanto possa essere difficile e quanto sia complicato convincere i pazienti a farlo. Abbiamo collaborato con associazioni, con associazioni di pazienti e siamo lieti di essere qui a questo evento. È davvero importante per noi di questo. Non siamo solo un'azienda farmaceutica innovativa a livello globale ma siamo un'azienda sanitaria globale che contribuisce al benessere della società. Per la prevenzione delle malattie cardiovascolari le nostre scelte quotidiane, dall'alimentazione all'esercizio fisico, sono determinanti. La lotta contro l'ictus inizia proprio da qui. Stili di vita sani che possono fare la differenza nel ridurre i rischi. La prevenzione è lo strumento più importante per evitare che la malattia faccia dei danni insostenibili sia per la comunità che per le famiglie. La prevenzione si realizza tramite interventi di screening, semplici visite di controllo fatte con medici professionisti che anche aiutandosi con degli strumenti poco invasivi ci possono dire qual è lo stato della nostra pressione arteriosa, dello zucchero nel nostro sangue o anche lo stato del colesterolo e delle dislipidemie. Un'altra cosa che aiuta a livello di prevenzione è l'adozione di abitudini di vita, stili di vita più salutari, più congrui con gli obiettivi di evitare di avere una patologia cardiaca o cerebrovascolare. Quindi fare movimento, quindi nutrirsi in modo adeguato alla propria età, ridurre o azzerare il consumo di alcol e il fumo. In sostanza prevenzione è informarsi, prendersi cura di sé e fare ciò che è meglio per la propria salute. Anche il monitoraggio regolare dei livelli di colesterolo è una pratica indispensabile per mantenere il benessere cardiovascolare. Questo gesto semplice ma di grande impatto può prevenire gravi complicanze e migliorare la qualità della vita. Presidente, liberiamo la circolazione dal colesterolo. Oggi un flash mob, grande attenzione da parte di tutti i passanti qui in centro a Roma. Quanto è importante che ci sia la percezione del proprio colesterolo? Beh, è certamente uno degli elementi più importanti da monitorare e noi di Federlazio Salute sappiamo molto bene che questo, all'interno delle nostre cliniche associate, è un elemento che teniamo come priorità massima. Oggi credo che sia una bellissima iniziativa per i romani e per tutti gli italiani, perché sostanzialmente questa grande attenzione alla prevenzione solitamente non c'è. Riteniamo invece che l'attenzione alla prevenzione sia l'elemento principale che dovrebbe muovere tutte le direttrici della sanità e noi come Federlazio Salute supporteremo tutte le iniziative volte ad enfatizzare e a migliorare la prevenzione. Riteniamo che oggi sia una bellissima giornata, non solo perché c'è un bellissimo sole, ma perché c'è tanta gente, c'è tanta attenzione e le persone quindi stanno dando il segnale che hanno interesse a prevenire eventuali problematiche. E ricordiamo che questo tipo di problematica, il colesterolo, potrebbe portare a conseguenze molto serie, per cui riteniamo che sia veramente un elemento prioritario. Durante la giornata i cittadini hanno avuto l'opportunità di partecipare a screening cardiologici gratuiti e ricevere materiale informativo sui rischi legati al colesterolo. Iniziative come queste di grande valore sociale aiutano a diffondere una cultura della prevenzione rendendo accessibili i controlli e la conoscenza. La percezione c'è nel cittadino medio dei propri livelli di colesterolo, facciamo attenzione? Direi di no, non c'è questa percezione. Non hanno assolutamente cognizione di quanto l'attività fisica sia importante, di quanto si serva a combattere i fattori di rischio. Purtroppo non c'è una cultura in questo senso. Non si sa che per esempio la familiarità incida il 50%, per cui se noi abbiamo il colesterolo alto su un paziente che ha avuto il papà o la mamma o il nonno che ha avuto un infarto, è già il 60% di possibilità che lui abbia un infarto, un'angina, un'arteriosclerosi o un ictus. Sensibilizzare la popolazione al colesterolo sia una bellissima maniera per fare prevenzione. Con le nostre telecamere abbiamo raccolto le testimonianze dei cittadini presenti chiedendo loro quanto siano consapevoli dell'importanza di monitorare i propri livelli di colesterolo e adottare uno stile di vita sano. Le risposte ci hanno rivelato un interesse crescente verso la prevenzione ma anche la necessità di continuare a educare. Giornata Mondiale del Cuore, lei ha conoscenze del suo livello di colesterolo? Ahimè sì, infatti sono sotto terapia proprio perché avevo un esame molto molto alto. Perciò sto prendendo i miei farmaci regolarmente e cerchiamo di andare avanti così. Mi aiuto un po' con l'alimentazione, quello senza dubbio perché si presume che sia una cosa abbastanza importante. Sì, soffro di colesterolo alto e prendo una pasticca. Mi è venuto dopo i 45 anni, facendo delle analisi, quindi prendo una pasticca per tutta la vita. Oggi è la giornata mondiale del cuore, voi avete la percezione del livello di vostro colesterolo? Sì, vi fate esami regolarmente? Sì, io l'ho a 2,30. Per quale? Oguale. Andiamo a attività fisica, a mangiare. Mangiare si sta attenti, sì che voglio dire. Dopo i 40 lo dobbiamo mantenere sotto controllo. Io l'avevo un po' alto e grazie al medico ho fatto una dieta con il nutrizionista e l'ho portata a livelli abbastanza apprezzabili. Giornata mondiale del cuore, lei controlla il suo colesterolo? Sì, sì, decisamente anche perché tendo ad avere un colesterolo molto alto, quindi lo tengo sotto controllo. La prevenzione è essenziale, è essenziale. Lo stile di vita, la prevenzione. Io faccio regolarmente controlli ogni anno con un'analisi, tra l'altro anche approfondita, tutto un CECA completo. Avendo superato i 60 anni è normale. Sapevo di questa bellissima iniziativa oggi e sono passato un po' anche per quello. Un po' dare un sostegno per queste manifestazioni e poi per fare anche un controllo, perché no? Quindi per fortuna ancora tutto bene. Lei sa del colesterolo? Certo, lo sappiamo. E controlla il suo colesterolo? Sì, abitualmente ce l'ho sotto cura, insomma, faccio attenzione. Anche perché ho avuto dei valori un po' alti e quindi essendo giovane lo tengo sotto controllo sempre. Assolutamente, abbiamo passato via la strada e ho visto immediatamente, è molto impressionante. La città è molto importante. E ti controlla il colesterolo? Sì, regolarmente. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Lei conosce i suoi livelli di colesterolo? Sì, purtroppo sì. Quindi è una cosa che controlla con regolarità? Sì, sì. Con semplici gesti quotidiani e controlli periodici, possiamo fare molto per prevenire malattie gravi e migliorare il nostro benessere complessivo. La prevenzione è nelle nostre mani e il cuore è il centro del nostro benessere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.